Rieccoci, una buona serata a voi tutti da Marcus, buon giovedì 16 febbraio a voi tutti se appena conclusa la settima estrazione del mese. Non c'è nessun risultato, non c'è il 90 nessuna ruota e non c'è nemmeno l'8 e l'80 su Genova Palermo. Unica previsione data qua su YouTube, quindi non 20.000 previsioni, ma ovvio una previsione da seguire. Eravamo a tre colpi questa sera, quindi sabato saremo a quattro colpi, arriveremo a cinque, sei colpi come vi ho già detto, quindi tenteremo di vedere se quest'ambo o l'ambata insieme al 90 possa arrivare con il 90 Genova e Palermo. Quindi si va avanti, gruppo privato niente nemmeno lì, quindi vediamo cosa succederà sabato. Previsione ancora avanti, quindi Genova-Palermo 8 e 80, ambo e ambetto e terzina a parte 8, 80 e 90. Poi cos'altro volevo farvi vedere? Sì, poi le ammate contate, comunque poi le rivedremo nel prossimo video. E la classifica integrale rimane sempre questa, Bari-Genova-Napoli-Palermo. Non cambia niente, quindi nessun 90, come vi ripeto, è uscito sulle ruote. E quindi andiamo avanti ancora sabato. Portiamo pazienza a questo gioco dell'8. Non c'è nessun certezza, si prova a vedere se queste giocate possono arrivare a destinazione. Quindi vediamo cosa succederà sabato. Ci risentiamo ragazzi, una buona serata a tutti. E chi ha fatto l'ambata contata e chi ha vinto, mandi lo scontrino al 351-758-8660. Ci risentiamo, una buona serata ancora voi tutti da Marcus e buona serata a tutti. Ciao e al prossimo video.